Buongiorno e benvenuti nel nostro primo spazio informativo dedicato alla notizia del giorno che dedichiamo ai percorsi tattili e alle polemiche relative proprio a questo. L'assessore ai lavori pubblici del comune di Trapani, Dario Safina, risponde ancora una volta alle perplessità sollevate da alcuni cittadini e invita tutti a valutare lavori quando saranno ultimati. Ascoltiamolo. Vedo che lei sorride l'assessore, però molti trapanesi non stanno sorridendo con questa storia delle strisce tattili su Via Fardella. Ogni giorno una polemica, al di là del fatto se sono meno strumentali queste polemiche. Obiettivamente però c'è bisogno di spiegare bene ai trapanesi che cosa sta succedendo. Lei continua a sorridere, mi fa piacere. Ma guarda, sorrido perché a differenza di qualcuno non sono per nulla nervoso. Ho la consapevolezza che stiamo facendo un lavoro importante per la città, che stiamo abbattendo per la prima volta delle barriere sensoriali. In questa città si è sempre pensato che le uniche barriere architettoniche da abbattere fossero quelle per chi ha disabilità motoria. No, esistono anche i ciechi, i povedenti e noi siamo, diciamo, tutto questo profilo, stiamo per diventare una delle città più avanzate del nostro paese. Abbiamo seguito le linee guida, quelle che è detta l'INAMCI, che è l'associazione che ha studiato quelle che sono le modalità costruttive e dei percorsi tattili per i povedenti e i ciechi, che racchiude le più importanti associazioni di categoria. E quello che dico è che, innanzitutto, ci vuole pazienza. Io capisco che i cantieri, soprattutto in una strada come la via Fardella, portano disagi, perché la via Fardella è la strada principale, l'artera principale della città e dunque un cantiere in quella via produce sicuramente disagi per i commercianti, per la circolazione, per le famiglie che vi abitano. Però siamo oramai, stiamo per volgere al termine dei lavori, oramai si sta quasi esclusivamente lavorando sui marciapiedi e io penso che alla fine quello che mi dispiace è che noi cerchiamo di valutare con gli occhi qualcosa che invece i soggetti più sfortunati di noi, i ciechi e i povedenti, invece valutano con altre qualità sensoriali che purtroppo hanno dovuto maturare a caso della loro disabilità. A mio avviso ci vuole un po' più di rispetto per questi soggetti, ci vuole un po' più di rispetto anche per i professionisti che hanno lavorato su questo progetto. E poi è chiaro, come sempre abbiamo detto, laddove noi ravvisassimo degli errori sarà a nostra cura farli rimuoverli a cure spese dell'impresa che ha sbagliato la realizzazione. Ma il progetto, come ho detto più volte, è già stato visionato dall'Inamci ed è stato approvato perché è riconosciuto perfettamente rispondente alle linee guida da loro dettate. Questa era la nostra notizia del giorno, adesso per noi una breve pausa, vi aspetto tra pochissimo con tutte le altre notizie di oggi. Scaramucce e giochi di forza, la giunta Tranchida non va ai lavori d'aula e dai banchi della minoranza scatta la contestazione. Droghe e distorsioni dal Piemonte a Custonaci, sgominata banda dedita anche alle estorsioni, in undici finiscono nel mirino dei Carabinieri. I territori coinvolti sono Custonaci, Alcamo, Balestrate, Partinico e la cittadina piemontese di Giaveno. Conoscere per promuovere si è concluso il ciclo di incontri promosso dall'associazione Trapani Welcome nell'ambito del progetto Riserva Saline. Tornano le giornate fai di primavera, il prossimo fine settimana la delegazione di Trapani, guidata da Nicola Dragna, tornerà a puntare i riflettori sulla Colombaia. Per lo sport di nuovo in campo, dopo il recupero di domenica contro il Real Aversa, il Trapani torna a giocare domani alle 15, un altro recupero, quello contro il Città di Sant'Agata. Verso il Museo della Flotta dei Reis, nell'approfondimento di oggi torneremo ad occuparci del recupero degli antichi barconi della Tonnara di Bonagia. Nel Borgo Marinaro sta per prendere forma un'esposizione che sicuramente aumenterà l'appil turistico della zona. Ben ritrovati con il nostro notiziario. Apriamo con la cronaca. Vasta operazione dei carabinieri fra Partinico, Custonacci, Alcamo e Balestrate. Nove in carcere, due con obbligo di residenza. Dal Piemonte alla Sicilia, sgominata banda dedita allo spaccio e alle estorsioni. I dettagli nel servizio. Nove persone arrestate, due in obbligo di dimora e il risultato del blitz dei carabinieri scattato all'alba di oggi tra Palermo, Balestrate, Alcamo, Custonacci e Giaverno in provincia di Torino. Disarticolata un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di droga e alle estorsioni. Le indagini, condotte dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, hanno preso il via nel 2019 in seguito a un incendio doloso applicato ai danni di uno stabilimento balneare di Balestrate. L'attività investigativa ha permesso di far emergere la presenza di due gruppi criminali che si spartivano nella piazza dello spaccio. Uno si occupava della cocaina, l'altro della marijuana e altre sostanze. Un fermo c'era già stato nel 2020. Uno degli attuali indagati, Alfonso Scalici, aveva progettato, assieme ad altri soggetti, un agguato nei confronti di un giovane di Mazzara del Vallo che aveva accumulato un debito di 45.000 euro per l'acquisto di un chilo di cocaina. Gli indagati, inoltre, avrebbero utilizzato anche un linguaggio criptico per comunicare tra loro cessioni e forniture di sostanze stupefacenti nel vano tentativo di eludere le captazioni telefoniche o ambientali. In carcere sono finiti Pietro Orlando, di 54 anni, nato a Balestrate, ma residente a Sant'Ambrogio di Torino, Santo Daniele Salvaggio, di 31 anni, di Balestrate, Roberto Alastra, 54 anni, di Palermo, Ignazio Impellizzeri, di 65 anni, di Alcamo, Pietro Berri, 55 anni, di Custonaci, Giovanni Modica, 66 anni, di Castelvetrano, Giacinto D'Angelo, 52 anni, di Palermo, Salvatore Russo, 51 anni, nato in provincia di Ferrara, ma residente a Palermo, Giuseppe Lombardo, 51 anni, di Palermo, obbligo di dimora per Vincenzo Scalici, di 45 anni, di Palermo, e Gino Tonetto, di 56 anni, di Borgetto. Adesso passiamo invece alla politica. Scaramucci e prove di forza ieri sera in Consiglio Comunale a Trapani. La giunta non va ai lavori d'aula e dai banchi della minoranza scatta la contestazione. Vediamo il servizio del direttore Nicola Balderotta. Un vero e proprio gioco di forza, quello in corso a Trapani, fra i banchi consigliari di Palazzo Cavarretta. Contrapposizione politica fra minoranza e maggioranza, con la netta presa di posizione dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Tranchida, che ieri sera non si è presentata ai lavori di Consiglio Comunale, malgrado il fatto che i lavori d'aula prevedessero l'attività ispettiva, cioè le domande dei consiglieri comunali su fatti amministrativi che riguardano la città alle quali sindaco e giunta avrebbero dovuto rispondere formalmente. La schermaglia era stata anticipata nei giorni scorsi proprio da una lettera che il sindaco aveva inviato al presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Guaiana, nella quale specificava di voler essere avvisato per tempo sulla necessità della sua presenza in aula e suggeriva alcune date utili per rispondere alle richieste dell'aula. Ieri sera comunque, né Tranchida né gli assessori si sono fatti vedere ai lavori di Consiglio Comunale, sollevando da parte della minoranza un vespaio di polemiche che lo stesso presidente del Consiglio, Guaiana, ha condensato così. Il Consiglio Comunale di Trapani, da me presieduto, questa sera è stato mortificato. Nonostante fosse pubblico che questa sera si sarebbe svolta l'attività ispettiva, nessun rappresentante dell'amministrazione si è presentata in aula rendendo di fatto inutile l'Assemblea. Troppo spesso gli assessori non si sono presentati in aula ma mai era accaduto che nessuno fosse presente. Il ruolo del Consiglio Comunale nella sua interezza quindi non è considerato dall'amministrazione e da presidente trovo la cosa vergognosa perché così nessun consigliere né di maggioranza né di minoranza ha potuto parlare in aula dei problemi della nostra Trapani. Ieri intanto si è insediata la Commissione Consigliare di indagine sul lente luglio musicale Trapaneso. Cinque componenti, tre della maggioranza e due dell'opposizione. Non è stato proclamato il presidente della Commissione Consigliare poiché la votazione finale ha visto un sostanziale pareggio fra la consigliera Garuccio e la consigliera Patti. Due voti a testa, un quinto invece è andato al consigliere Domenico Ferrante. Oggi la Commissione tornerà a riunirsi per eleggere il presidente della stessa. In arrivo ristori fino a 15 mila euro per le imprese agricole colpite dalla crisi a causa del lockdown. Vediamo. Con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro sarà pubblicato domani l'elenco dei beneficiari degli aiuti a fondo perduto con ristori che vanno da un minimo di mille euro fino a un massimo di 15 mila euro ad azienda. Ad annunciarlo è l'assessore regionale all'agricoltura e allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea a Tonicilla. L'elenco pubblicato fa riferimento al bando rivolto alle imprese agricole con sede in Sicilia che nel periodo del lockdown dal 12 marzo al 4 maggio 2020 hanno subito perdite di fatturato superiori al 60% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nell'elenco quasi 1500 aziende colpite da una situazione inedita di difficoltà economica. La pandemia e il conseguente lockdown, ha sottolineato Scilla, hanno causato drammatiche conseguenze di carattere economico e sociale alle quali il governo musumeci fa fronte ancora una volta con aiuti straordinari. L'assessore regionale ha tenuto a ringraziare anche il Parlamento siciliano per aver approvato la dotazione finanziaria a copertura di tale misura. Finisce qui la prima parte del nostro notiziario e ci rivediamo tra pochissimo con le altre notizie. Conoscere per promuovere si è concluso il ciclo di incontri promosso dall'associazione Trapani Welcome nell'ambito del progetto Riserva Saline. Tornano le giornate fai di primavera. Il prossimo fine settimana la delegazione di Trapani guidata da Nicola Adragna tornerà a puntare i riflettori sulla colombaia. Di nuovo in campo dopo il recupero di domenica contro il Real Aversa. Il Trapani torna a giocare domani alle 15. Un altro recupero, quello contro il città di Sant'Agata. Ben ritrovati con il nostro notiziario. Si è concluso il corso di educazione ambientale promosso da Trapani. Welcome nell'ambito del progetto Riserva Saline. Il servizio di Mario Torrente. Gli incontri tenuti al Baglio Elena di Petra Tagliate hanno permesso di approfondire il grande potenziale della riserva delle saline di Trapani e Paceco, sia per gli aspetti naturalistici, sia per quelli legati al lavoro dei salinai, ai mulini e a tutte le opere dell'uomo che ancora oggi caratterizzano questi meravigliosi paesaggi. Argomenti che sono stati affrontati nel corso di un apposito incontro da Irene Salvatore Culcasi che ha anche parlato dei canti dei salinai, mentre Goffredo Adragna ha ripercorso la storia economica della produzione del sale a Trapani, quando questa attività aveva un ruolo centrale in città, soffermandosi sulla necessità di salvaguardare questa importante pagina di memoria trapanese. Tra i relatori anche l'entomologo Calogero Muscarella della cooperativa Silene che si è soffermato sul mondo degli insetti e della loro importanza negli equilibri della biodiversità. Gli insetti sono l'architrame della biodiversità, l'uomo sostanzialmente non è altro che un piccolo minuscolo granello di quello che è quell'enorme meraviglioso mosaico che è la biodiversità e se andiamo sui numeri concreti, su 1.800.000 specie attualmente censite, 900.000 sono gli insetti su 1.800.000 specie censite, 1 è l'uomo, 900.000 sono gli insetti. Senza di loro la vita come la conosciamo non sarebbe semplicemente possibile. Immaginatevi banalmente il semplice gesto di allungare la mano e raccogliere un frutto da un albero. Senza gli insetti impollinatori non sarebbe nemmeno possibile, anche da un punto di vista puramente economico. Il loro valore ecosistemico è enorme, è stato quantificato solo in Italia in 5 miliardi di euro il contributo economico che hanno gli insetti per la natura. Se dovessero chiederci il conto sarebbe quindi elevatissimo. Senza quell'enorme lavoro che fanno il mondo come lo conosciamo non esisterebbe semplicemente più. È lo scopo di una riserva, è quello di tutelare queste norme di biodiversità. Spazio anche alle opportunità di lavoro che il patrimonio naturalistico e non solo offre in chiave turistica con un momento dedicato alla figura della guida ambientalista con l'intervento di danni di falco dell'associazione AIGAE. La nostra figura è una figura molto complessa, siamo un po' le chiavi del territorio, cioè noi permettiamo al nostro turismo, un turismo lento, un turismo a piedi di accedere al territorio. Il turismo a piedi è un turismo lento che ha il tempo e la voglia di ascoltare il territorio con i mestieri, di osservare la natura bene, di usufruire dell'ospitalità della gente, perché alla fine qual è il nostro talento in Sicilia? È l'ospitalità soprattutto, a parte abbiamo un territorio sanitario. Come si diventa guida ambientale? Ci sono dei corsi di formazione di circa 400 ore che sono organizzati da associazioni di categoria come la mia, che è la AIGAE, l'Associazione Italiana Guida Ambientale Escursionistica e appunto formano questa figura che secondo me è un po' il futuro del turismo in Sicilia perché la richiesta, ripeto, la richiesta del nostro servizio è sempre maggiore e la qualità dell'accoglienza, del servizio non è all'altezza al momento, quindi secondo me servono guide e servono guide formate. Secondo me il territorio è l'arma vincente, bisogna puntare sul territorio e sulla professione appunto nostra che appunto siamo sulla fruizione del territorio in poche parole, secondo me è importante. sabato e domenica torneranno le giornate di primavera del FAI e dopo tutti questi mesi di stop a causa della pandemia la delegazione di Trapani ha deciso di tornare alla Colombaia. Ad illustrarci il programma il capo delegazione Nicola Adragna. Questa edizione del 2022 arriva dopo questo periodo di pandemia che ha distrutto gran parte di quello che si era fatto nel passato e quindi il segnale che il FAI vuole dare è un segnale di ripresa e di memoria, di ricordare quello che FAI, voce del verbo fare, ha fatto già in passato concretamente. La Colombaia è stato nel 2008 luogo del cuore, a livello nazionale ha vinto il primo posto nel censimento dei luoghi del cuore e il FAI tiene moltissimo a ricordare a tutti che la sua attività sul territorio si esplica in maniera concreta. Grazie a quella vittoria nel censimento dei luoghi del cuore la Colombaia riuscì poi ad ottenere finanziamenti prima la sdemanializzazione e il passaggio alla regione e poi i finanziamenti per la sua messa in sicurezza, quello che anche oggi consente di poterla visitare. Noi abbiamo i ragazzi in PCTO, quella che una volta era l'alternanza scuola-lavoro e saranno quelli dell'Istituto Rosina Salvo e dell'Oshasha Bufalino. Sono ragazzi preparatissimi che abbiamo provveduto a formare nel corso dell'anno e che guideranno i visitatori alla scoperta di questo bellissimo castello di mare che è la Colombaia. Sabato 26 e domenica 27, sabato dalle ore 10 fino di fatto alle 18 con una breve pausa fra le 13.30 e le 14.30 e domenica a partire dalle 9.30, saranno possibili le visite ovviamente sempre con i nostri bravissimi apprendisti ciceroni, i ragazzi delle scuole che sono impegnati anche in PCTO, quella che era l'alternanza scuola-lavoro e che guideranno i visitatori all'interno del castello. Tending ovation finale per il concerto tenuto la scorsa domenica dal pianista Costantino Catena presso la chiesa di Sant'Alberto per la stagione degli Amici della Musica di Trapani. All'esibizione hanno fatto seguito due giorni di masterclass per quattro allievi dei conservatori di Trapani e Ribera. Vediamo. Non moderno o old style, Costantino Catena suona in modo semplicemente sodenne, assoluto. Figlia di uno studio maniacale, la sua cifra espressiva è fatta di estrema padronanza e di ogni passaggio della scrittura musicale. In qualche modo è come se il nostro fosse sempre avanti rispetto a quel che suonerà da lì a poco. Un grande pianista per un grande concerto e va da sé che alla fine il pubblico abbia ringraziato l'artista con una standing ovation sentita ed emozionata. E se hai qui un maestro di tanto talento, va da sé che diventa quasi un dovere etico creare l'opportunità per alcuni giovani e lievi pianisti di incontrarlo e con lui studiare. Ed è esattamente quello che hanno fatto gli amici della musica di Trapani. Grazie ad un accordo con i conservatori di Trapani e di Ribera, ieri e oggi quattro allievi hanno potuto incontrare e studiare con il maestro Catena. E lo hanno fatto su di un pianoforte Stain Way & Sons affidato agli amici della musica dal libero consorzio comunale di Trapani. L'affidamento prevede a carico dell'associazione la manutenzione ordinaria e la messa in esercizio periodica dello strumento per salvaguardarne la funzionalità. L'accordo, inoltre, prevede la realizzazione di attività finalizzate alla diffusione della cultura musicale in favore dei giovani della provincia di Trapani, nonché attività concertistica che vedano protagonista tale strumento. Il progetto che mi è stato sottoposto dal dottore Desanesi, che conosco da molto tempo, da quando dirigeva in maniera egregia il luglio musicale, il progetto da lui rappresentato di diffusione della cultura musicale tra gli studenti di tutta la provincia non poteva non incontrare il supporto della mia amministrazione. Per questo motivo abbiamo stretto questa collaborazione che, come potete vedere, comincia a dare i suoi risultati. La collaborazione tra il pubblico e il privato, a volte da frutti insperati. Per gli appuntamenti su Telesud, questa sera alle 20.30, trasmetteremo l'incontro di calcio Trapani-Real Aversa, valevole per il recupero della diciannovesima giornata del campionato di Serie D Girone I. Alle 22.30 invece andrà in onda l'incontro di basket, pallacanestro Trapani a Sigeco Piacenza, valevole per la ventitresima giornata del campionato di Serie A2. Adesso per noi una breve pausa, ci ritroviamo tra poco con la pagina sportiva. Apriamo la nostra pagina sportiva con il calcio, il Trapani prosegue la preparazione in vista del recupero di domani contro il Città di Sant'Agata. Morcia dovrà fare a meno anche dell'uruguaiano Olivera. Vediamo. Settimana intensa per il Trapani di Mister Morgia, che dopo il recupero di domenica contro il Real Aversa, torna subito in campo domani per un altro recupero, quello contro il Città di Sant'Agata. All'elenco degli indisponibili, oltre a Buffa, Galfano e Lupo, si aggiunge anche il centrocampista Oliveira, espulso durante la gara di domenica. Insomma, ancora emergenza centrocampo per Morcia, che già nella conferenza stampa posto Real Aversa aveva annunciato la serie difficoltà nella zona nevralgica del campo per le numerose assenze. Buffa e Galfano inoltre sono alle prese con problemi muscolari, per cui non facilmente recuperabili per la sfida di domani. Da capire quindi quale soluzione adotterà Mister Morgia. A dirigere la partita sarà Andrea Rizzello della sezione di Casarano, gli assistenti di gara saranno Pietro Bennici e Marco Campanella, entrambi della sezione di Agrigento. Fischio d'inizio alle ore 15. Intanto, per la partita di domani e quella interna di domenica contro il Troina, la società Granata ha previsto dei prezzi speciali. Gli italiani in promozione si possono acquistare esclusivamente presso la biglietteria ufficiale in via Sicilia. Adesso è il volley, sedicesima giornata nel campionato di Serie C femminile. Vittoria per l'ottica fodale ricina che batte l'APD Cegap Palermo con un secco 3-0, centrando così la decima vittoria su 11 gare disputate, consolidando il primato in classifica. Quota 30 punti, inseguita dalla formazione che vedete proprio in sovrimpressione, la formazione ricina del Lentello, che batte Castelvetrano 1-3 e va a quota 26 punti. E adesso andiamo avanti con le notizie. Si chiude con la vittoria nei singoli di Carmelo Forastieri della Lega Navale Italiana di Palermo, la seconda tappa del campionato interzonale Sicilia-Calabria, riservata alla classe paralimpica Anza 303 di Vela, che ha visto protagonista nello scorso weekend la città di Trapani. Nei doppi, invece, esulta la coppia formata da Flavio Messina e Sabrina Pollici della sezione di Trapani della Lega Navale Italiana, che hanno ottenuto il primato in classifica. La regata è stata un'ottima occasione di inclusione di Vela, disabili di ogni età hanno partecipato a questo importante appuntamento sportivo e di integrazioni. Le imbarcazioni, infatti, hanno permesso di fare veleggiare coloro i quali riportano disabilità. Adesso passiamo, invece, al calcio regionale. Vediamo come sono andate le formazioni trapanesi negli incontri di questo fine settimana. In eccellenza si è giocata la venticinquesima giornata di campionato. Pareggia 0-0 la mazzarese contro il Profavara. Perde il Castellamara 1-2 in casa dello Sciacca. Il Mazzara avrebbe dovuto giocare contro il dolce Onorio Marsala, ma la gara è stata rinviata per la positività al Covid-19 di alcuni calciatori della squadra di casa. Ventunesima giornata in promozione, dove si registra il pareggio per 1-1 tra Resultana, San Lorenzo e Città di San Vitolo Capo. Il Fulgatore batte 3-0. Il Villabate pareggiano 3-3, Cefalo e Alcamo, mentre termina 0-0. L'incontro tra Raffadali e la Folgore in zona play-off. Troviamo al quinto posto il Fulgatore e al terzo la Folgore-Castelvetrano, a quota 42 punti. Anche in prima categoria si è disputata la ventunesima giornata. Vittoria del Custonacci per 3-0 sul Cinisi. Finisce 2-2 Valderice-Petrosino. L'Accademia Trapani sigla il terzo successo consecutivo, battendo 3-0 il Città di Cinisi. Gara decisa tutta nei primi 45 minuti. I gol della formazione trapanese portano la firma di Nolfo, Gambicchia e Castiglione. Sono 36 punti in classifica per l'Accademia, che mantiene il punto di vantaggio sull'Icarenze. Al terzo posto, a 33, c'è il Custonacci, prossimo avversario dell'Accademia. Ben ritrovati nello spazio dedicato all'approfondimento. Il primo antico barcone di ciò che resta della flotta della Tonnara di Bonagia è stato posizionato nella piazza antistante Il Porticciolo, dove sorgerà un museo a cielo aperto con un'esposizione che permetterà di valorizzare il borgo marinaro Valdericino. Il servizio di Mario Torrente. Il trasporto del primo palascarbo, lungo, più di 14 metri, è stata un'operazione non facile, visto che l'antico barcone, dopo essere stato ingabbiato in una struttura metallica, è stato caricato con una grande glu su un camion per essere portato a Piazza Tonnara, dove sorgerà un museo a cielo aperto che darà sicuramente un nuovo appeal a Bonagia. Intanto è giusto che precisiamo che l'intervento è stato molto più complesso rispetto a quello che pensavamo, perché di fatto le muciare erano davvero messe male, il legno aveva poca consistenza e grazie alla volontà dell'amministrazione che ci ha messo anima e cuore nella fase di progetto, ottenimento e finanziamento, bisogna dare anche i meriti alla ditta ICOS e al direttore del cantiere, al Maurizio Stabile che con molta passione ha recuperato le muciare. Adesso ci aspetta una fase delicata che è quella del trasporto a Piazza Tonnara e inserendole nella zona dove verrà realizzata la pergotenda. Nella fase progettuale la pergotenda riuscirà a portare un museo a cielo aperto a tutti gli effetti con una zona multimediale e pensiamo che sia l'inizio di un percorso per Bonagia. L'intenzione è quella di rappresentare proprio un polo museale che porti attrazione alla frazione e metterlo a sistema con ulteriori interventi che pensiamo di fare nella zona in modo da valorizzare tutto il borgo marinaro e la storia che è molto affascinante che gli spetta. A seguire le operazioni di trasporto del Parascarmo c'era anche l'assessore Maria Jovino, nata e cresciuta a Bonagia, che quei barconi con a bordo i tonnaroti li ricorda benissimo. Io sono emozionatissima perché sto vivendo la storia. Cioè questa diventerà storia per i nipoti, i pronipoti. La storia di che cosa? Di un mondo di vita, di un modo di vivere che non c'è più. Io l'ho vissuta, avevo 3-4 anni quando mi arrampicavo sulle musciare e mi ricordo anche quando arrivavano i tonnaroti io ero proprio una papuzzana piccola piccola in mezzo a loro. Quindi l'emozione mia è immensa. Sono contenta perché dopo più di 20 anni, l'amministrazione stabile insieme a tutti coloro che si sono occupati di questo recupero abbiamo voluto fortemente, nonostante abbiamo avuto non poche difficoltà nel realizzare questo progetto a cui, ripeto, i tonnaroti e i bonagioti sono legati. Io sono sicura che col tempo si ricrederanno perché questa è storia. Storia di un morgo meraviglioso, di un morgo che ha dato quasi tutto a questa donnara. Rieccoci con la nostra seconda edizione. Oggi all'Istituto Comprensivo Statale Eugenio Pertini, plesso Giovanni Falcone di Trapani i carabinieri hanno incontrato gli studenti nell'ambito della manifestazione La Forza Vitale delle Radici. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del più ampio progetto nazionale di educazione ambientale rivolto alle scuole dal titolo Un albero per il futuro, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e dai carabinieri a cui l'Istituto Scolastico ha aderito. In questo contesto, con la collaborazione della Fondazione Falcone e l'Associazione Libera è stato posto a dimora un albero simbolo dell'impegno verso lo Stato nella lotta alle mafie. L'albero di Giovanni Falcone, che cresce proprio nei pressi della Casa del Giudice, assassinato nel 92 dalla mafia. Vasta operazione dei carabinieri fra Partinico, Custonaci, Alcamo e Balestrate. Nove in carcere, due con obbligo di residenza. Dal Piemonte alla Sicilia, sgominata una banda dedita allo spaccio e alle estorsioni. Vediamo. Nove persone arrestate, due in obbligo di dimora e il risultato del blitz dei carabinieri scattato all'alba di oggi tra Palermo, Balestrate, Alcamo, Custonaci e Giaverno in provincia di Torino. Disarticolata un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di droga e alle estorsioni. Le indagini, condotte dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, hanno preso il via nel 2019 in seguito a un incendio doloso applicato ai danni di uno stabilimento balneare di Balestrate. L'attività investigativa ha permesso di far emergere la presenza di due gruppi criminali che si spartivano la piazza dello spaccio. Uno si occupava della cocaina, l'altro della marijuana e altre sostanze. Un fermo c'era già stato nel 2020. Uno degli attuali indagati, Alfonso Scalici, aveva progettato, assieme ad altri soggetti, un agguato nei confronti di un giovane di Mazzara del Vallo che aveva accumulato un debito di 45.000 euro per l'acquisto di un chilo di cocaina. Gli indagati, inoltre, avrebbero utilizzato anche un linguaggio criptico per comunicare tra loro cessioni e forniture di sostanze stupefacenti nel vano tentativo di eludere le captazioni telefonico-ambientali. In carcere sono finiti Pietro Orlando, di 54 anni, nato a Balestrate, ma residente a Sant'Ambrogio di Torino, Santo Daniele Salvaggio, di 31 anni, di Balestrate, Roberto Alastra, 54 anni, di Palermo, Ignazio Impellizzeri, di 65 anni, di Alcamo, Pietro Berri, 55 anni, di Custonaci, Giovanni Modica, 66 anni, di Caselvetrano, Giacinto D'Angelo, 52 anni, di Palermo, Salvatore Russo, 51 anni, nato in provincia di Ferrara, ma residente a Palermo, Giuseppe Lombardo, 51 anni, di Palermo, obbligo di dimora per Vincenzo Scalici, di 45 anni, di Palermo, e Gino Tonetto, di 56 anni, di Borgetto. Adesso parliamo invece di percorsi tattili. L'assessore ai lavori pubblici del Comune di Trapani, Dario Safina, risponde ancora una volta alle perplessità sollevate da alcuni cittadini e invita tutti a valutare i lavori quando saranno ultimati. Ascoltiamolo. Vedo che lei sorride, assessore, però molti trapanesi non stanno sorridendo con questa storia delle strisce tattili su Via Fardella. Ogni giorno una polemica, al di là del fatto se sono meno strumentali queste polemiche. Obiettivamente però c'è bisogno di spiegare bene ai trapanesi che cosa sta succedendo. Lei continua a sorridere, mi fa piacere. Ma guarda, sorrido perché a differenza di qualcuno non sono per nulla nervoso. Ho la consapevolezza che stiamo facendo un lavoro importante per la città, che stiamo abbattendo per la prima volta delle barriere sensoriali. In questa città si è sempre pensato che le uniche barriere architettoniche da abbattere fossero quelle per chi ha disabilità motoria. No, esistono anche i ciechi, i povedenti e noi siamo, diciamo, tutto questo profilo, stiamo per diventare una delle città più avanzate del nostro paese. Abbiamo seguito le linee guida, quelle che è detta l'INAMCI, che è l'associazione che ha studiato quelle che sono le modalità costruttive dei percorsi tattili per i povedenti e i ciechi che racchiude le più importanti associazioni di categoria. E quello che dico è che, innanzitutto, ci vuole pazienza. Io capisco che i cantieri, soprattutto in una strada come la Via Fardella, portano disagi perché la Via Fardella è la strada principale, l'artera principale della città e dunque un cantiere in quella via a producere sicuramente disagi per i commercianti, per la circolazione, per le famiglie che vi abitano. Però stiamo per volgere al termine dei lavori, oramai si sta quasi esclusivamente lavorando sui marciapiedi e io penso che alla fine quello che mi dispiace è che noi cerchiamo di valutare con gli occhi qualcosa che invece i soggetti più sfortunati di noi, i ciechi e i povedenti, invece valutano con altre qualità sensoriali che purtroppo hanno dovuto maturare a caso della loro disabilità. A mio avviso ci vuole un po' più di rispetto per questi soggetti, ci vuole un po' più di rispetto anche per i professionisti che hanno lavorato su questo progetto e poi è chiaro, come sempre abbiamo detto, laddove noi ravvisassimo degli errori sarà a nostra cura farli rimuoverli a cure spese dell'impresa che ha sbagliato la realizzazione. Ma il progetto, come ho detto più volte, è già stato visionato dall'Inamci ed è stato approvato perché è riconosciuto perfettamente il rispondente alle linee guida da loro dettate.